Io facevo cinque giri di Urbino al giorno, il giro dei 90 si chiamava. Si partiva da Pesaro, si andava a Urbino, Fossombroni, Fano e Pesaro. Ero sempre sulla morte insomma. Parcheggiate nel Sagrato, le motociclette di mezzo secolo fa sulle quali corse e vinse. Fra le navate della chiesa di San Luigi Gonzaga, tutto l'affetto e la commozione di una Pesaro dei motori che ha reso omaggio alla memoria di Guido Mancini. Guidino, come veniva chiamato, se n'è andato venerdì scorsa 85 anni dopo un periodo di ricovero a Galantara e dopo una vita trascorsa sulle moto e per le moto. Prima come affermato pilota, poi come straordinario tecnico, meccanico, costruttore e talent scout. Un'esistenza dedicata alle due ruote e ai piloti. Con le moto, uscite dalla sua officina di Via Pantano, ha svezzato bambini diventati campioni, come Valentino Rossi, Capirossi, Dovizioso, Morbidelli o Fenati. Sapeva allevare il talento come pochi attraverso quel suo riconosciuto cacciavite magico capace di creare meraviglie di messa a punto. Nella chiesa di San Luigi l'abbraccio alla famiglia in mezzo ad un infinito scambio di aneddoti fra i tanti che hanno intrecciato amicizie e rapporti con un uomo davvero speciale.